Stamattina alle 7.35 mi ha telefonato il segretario generale, Dottor Longo, dicendomi che c'erano i carabinieri in municipio. Mi sono precipitata ma ho trovato già tutto transennato, tutto l'ufficio tecnico, quindi tutto il piano terra e il primo piano, i locali dell'ufficio tecnico posti al primo piano. Quindi lei non ha avuto modo poi di parlare con loro? Sì, con il colonnello sì, dopo un'altra ora il colonnello mi ha appunto detto che erano state arrestate 6 persone e che comunque alla sindaca non era dovuto alcun esibizione di alcun mandato perché il mandato è stato sottoposto solo agli indagati. Qual è il suo stato d'animo in questo momento? Sono sorpresa e addolorata. Mi sento un grande carico di responsabilità e tutti mi dicono tu vai avanti perché non c'entri nulla con il passato e vai avanti. Ci sarà un consiglio comunale straordinario? In questo momento non l'ho previsto e non ci ho ancora pensato. Le ripeto, bocce ferme fino per qualche giorno perché potrebbe anche essere che tra qualche giorno cambi lo scenario.